benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di costruzione di grafi in particolare cercheremo di capire come possiamo mettere a frutto i meccanismi di percezione che abbiamo visto finora per andare a costruire delle visualizzazioni che siano efficaci e soprattutto che rispettino i principi di integrità visuale l'approccio che vorrei utilizzare è quello che si basa sulla grammatica dei grafici ovvero una teoria che sta dietro la costruzione di grafici che prevede una separazione tra quelli che sono i dati e le loro elaborazioni quella che l'aspetto estetico e definisce i grafici in termini di elementi fondamentali che possono essere assemblati al fine di costruire quello che è una visualizzazione. Normalmente sono previsti tre passi sostanziali la parte di specifica quindi io vado a dire come costruisco il grafico la parte di combinazione di assemblaggio in cui metto i veri elementi per cui anche esempio gli elementi a supporto e poi la parte di visualizzazione che sostanzialmente è un aspetto di basso livello che riguarda la parte hardware e software che permette di mostrare la visualizzazione in qualche modo. Quando parliamo di specifica che è la parte che ci interessa di più e su cui noi possiamo andare a agire più significativamente normalmente quello che andiamo a fare è andare a specificare quali sono i dati ovvero quali informazioni quali misure noi vogliamo andare a a rappresentare ad esempio qual è l'asse qual è la misura che rappresenta l'asse x e quale misura rappresenta l'asse y. Andiamo poi a specificare il tipo di trasformazione che noi vogliamo andare a fare che so magari vogliamo andare a contare gli elementi che stanno in una categoria oppure vogliamo andare a fare un ranking eventuali trasformazioni e meccanismi di scala per cui normalmente noi utilizziamo scale lineari ma ben sapete che è possibile anche utilizzare delle scale logaritmiche. Il sistema di coordinate che vogliamo utilizzare nel caso più semplice utilizziamo un sistema cartesiano rettangolare ma potremmo anche utilizzare un sistema di coordinate polari o comunque qualche altro meccanismo di definizione delle coordinate. Infine dobbiamo andare a specificare gli elementi che vogliamo utilizzare in particolare gli oggetti grafici e quali sono i loro attributi esattamente come abbiamo analizzato finora parlando di percezione e poi eventuali guide ad esempio gli assi, le leggende, i titoli, annotazioni eventuali. Per cui ad esempio se noi pensiamo di andare a definire quello che è uno scatter plot, quindi un diagramma a punti su un piano cartesiano, i dati sono x e y che arrivano dai valori x e y di qualche insieme di dati, la trasformazione non esiste sostanzialmente io prendo i dati come sono, la scala è una scala lineare delle due dimensioni quindi abbiamo due scale in un piano cartesiano, il sistema di coordinate è un sistema di coordinate rettangolare che utilizza le due dimensioni, gli elementi sono i punti e la loro caratteristica è la posizione, sostanzialmente la combinazione di x e y e poi aggiungiamo due guide che sono due assi che corrispondono alle dimensioni 1 e 2. Esistono alcuni sistemi di visualizzazione che vi permettono di andare a specificare tutti questi passaggi e andare a costruire il grafico. Ricordiamoci che quando andiamo a costruire un grafico dobbiamo poi aggiungere tanti elementi, quindi abbiamo i componenti dati, quindi gli oggetti e i loro attributi, il layout, quindi come andiamo a posizionarlo, il sistema di coordinate è l'aspetto principale ma poi ci sono alcuni accorgimenti specifici che possono essere molto utili e tutti gli elementi di supporto, innanzitutto gli assi che quindi sono le guide, le etichette, leggende, eccetera. Quindi sostanzialmente ricordiamoci che noi dobbiamo andare a rappresentare quella che è una visualizzazione e dobbiamo andare a supportare i diversi passi, quindi la percezione, il ragionamento e poi una valutazione e una comprensione di quello che è il grafico. Nell'andare a codificare i nostri valori ricordiamoci che per ogni variabile noi dobbiamo avere il tipo di oggetto e l'attributo e questa è la decisione principale che dobbiamo prendere. E poi dobbiamo andare essenzialmente a fare una distinzione in termini di tipo di dati, ovvero dati che possono essere di tipo quantitativo oppure di tipo categorico, quindi intervallo, rapporto assoluto oppure nominale e ordinale. Una decisione che guida la scelta degli oggetti, degli attributi e altri aspetti che riguardano un grafico è il tipo di relazione che io voglio andare a rappresentare. Ad esempio se io sto ragionando all'interno di una categoria posso andare a fare semplicemente un confronto, un valore più alto o più basso dell'altro. Posso fare un ordinamento, posso fare un rapporto parte e tutto, posso andare a rappresentare quella che è una distribuzione. Se ho più misure, ad esempio una delle misure può essere il tempo e quindi io ho delle serie temporali, una certa quantità nel tempo. Posso avere delle deviazioni rispetto a delle misure o dei riferimenti predefiniti oppure posso avere delle correlazioni. Iniziamo a ragionare su quella che è la codifica degli aspetti quantitativi andando a considerare che normalmente, volendo essere sintetici, possiamo avere sei tipi principali di rappresentazioni. Possiamo avere gli oggetti con la loro posizione, possiamo avere delle linee, possiamo avere la loro combinazione, quindi oggetti che sono le linee più i punti, le barre orizzontali o verticali e l'area. Ovviamente poi gli oggetti possono cambiare, perché qui io vi ho rappresentato un'area in termini di rettangoli, ma potremmo utilizzare delle sfere, delle bolle o qualunque altra forma geometrica. Il primo tipo di relazione che possiamo andare a rappresentare è quella del confronto nominale, quindi quando dobbiamo andare a confrontare i valori associati a diverse categorie. In generale dobbiamo fare attenzione che una soluzione generale non esiste, perché dipende dal tipo di dati che vogliamo andare a rappresentare e dai loro valori effettivi. Ad esempio può capitare che esistano delle piccole differenze che potrebbero essere difficili da notare se utilizziamo un certo tipo di codifica rispetto a un altro. Ad esempio utilizzare una scala che non è basata su zero, se abbiamo tutti i valori molto alti potrebbe essere utile. Possiamo utilizzare, ad esempio, per questo motivo dei dot plot invece che utilizzare dei diagrammi a bar. La codifica che normalmente utilizziamo è quella di utilizzare delle barre. Ricordatevi che quando utilizziamo delle barre la lunghezza sostanzialmente della barra è la dimensione, quindi l'attributo, che codifica il valore, per cui dobbiamo sempre utilizzare delle scale che abbiano come base zero, altrimenti abbiamo un'esagerazione delle differenze, quindi abbiamo quello che è un life factor significativamente maggiore di 1. Oltre alle barre orizzontali abbiamo anche le barre verticali che spesso vengono chiamate in colonne, quindi un diagramma a colonne. Quindi, attenzione, l'altezza o la lunghezza della barra è l'aspetto, quindi l'attributo che codifica il valore. La cima della barra, la posizione della cima della barra rispetto all'asse può essere di aiuto ma non è l'aspetto che noi notiamo primariamente, quindi è di supporto per avere una misura un po' più precisa ma non è la codifica principale, per cui, di nuovo, ripeto, l'asse deve partire da zero. Un altro aspetto è che normalmente la larghezza delle barre non codifica alcun valore. Potrei decidere di codificare un'altra variabile nella larghezza delle barre, se avessi la necessità di farlo, però normalmente la larghezza non viene mai percepita, quindi se voi dovete codificare qualcosa sulla larghezza dovete dirlo esplicitamente ed è una cosa che normalmente non si fa. Quindi, se io ho un confronto, qui andiamo a prendere ad esempio un insieme di dati che vedremo più volte, che è sostanzialmente l'affluenza elettorale nelle elezioni regionali nel 2018, scusate, le elezioni del 2018 a livello regionale e quindi vediamo diverse regioni e quello che è il turnout, ovvero l'affluenza elettorale. Questo è il caso semplice in cui abbiamo una categoria, il corrispondente valore e possiamo andare a confrontare due categorie. È ovvio che essendo i valori concentrati tutti qui, quindi sopra il 60%, tutta questa parte sottostante delle barre sostanzialmente non è molto utile o comunque non ci aiuta, anzi comprime i valori abbastanza, per cui questi due valori, ad esempio Marche e Lombardia, che sembrano molto simili, in realtà hanno una piccola differenza. Quello che spesso più o meno volontariamente facciamo è quello di andare a tagliare l'asse, quindi ad esempio farlo partire da 60. Ecco in questo caso la differenza che prima notavamo malapena in questo caso è più evidente. Il problema è che a questo punto se andiamo a prendere la regione con l'affluenza più alta, il Veneto, e quella con l'affluenza più bassa, la Sicilia, e andiamo a confrontarle. Ecco, l'i-factor ci dice che abbiamo un'esagerazione di oltre 5 volte di quella che è la differenza, quindi riusciamo a vederla ma la nostra percezione è decisamente alterata. Sì che c'è il 60% qua, però comunque la nostra percezione immediata è di molte volte, mentre invece la differenza è sostanzialmente da circa il 62-63 al 76-77, quindi c'è un 12-13% di differenza. Oltre alle barre verticali e orizzontali abbiamo la possibilità delle barre verticali, qui la compressione è ancora più significativa perché le barre sostanzialmente sono corte. Quello che possiamo notare qua è che purtroppo le etichette sono non orizzontali, se le scrivessimo orizzontali si sovrapporrebbero e quindi sarebbero illegibili, quindi dovendole mettere in diagonale è molto più difficile leggere. Per cui in generale la raccomandazione è quella, avendo delle etichette relativamente lunghe, quindi oltre pochi caratteri, non utilizzare delle barre verticali, quindi diagramma a colonne, ma bensì un diagramma a barre orizzontali in cui io posso scrivere tranquillamente le mie etichette senza doverle o sovrapporre oppure ruotare e queste sono decisamente più leggibili rispetto a queste che sono in verticale. Un altro importante aspetto a cui bene fare attenzione è la distanza tra le barre. Normalmente il valore che può essere utilizzato è una distanza che è pari alla larghezza delle barre, con una variazione del più o meno 50%, cioè da una distanza che è mezza barra a una distanza che è una barra e mezza. In generale, ricordandoci che più gli oggetti che vogliamo confrontare sono vicini, più è facile fare un confronto, è bene limitare questa distanza, quindi una distanza che è dell'ordine del mezzo spessore di una barra è un qualcosa che generalmente va bene. Quello che è assolutamente da evitare, l'abbiamo visto in qualche esempio precedente, è avere delle barre che si sovrappongono perché non riusciamo bene ad apprezzare tutta la lunghezza della barre, quindi abbiamo una percezione che è sostanzialmente falsata. Un altro modo di andare a rappresentare dei dati se vogliamo andare a fare un confronto è quello di utilizzare un dot plot, ovvero un diagramma a punti dove abbiamo il valore che è codificato come posizione rispetto a un asse e la categoria che è sostanzialmente la posizione rispetto all'altro asse. La posizione rispetto all'asse della categoria è la codifica che viene fatta anche per il diagramma a barre, quindi la posizione rispetto a un asse mi permette di andare a identificare le diverse categorie. In questo caso non c'è la necessità di avere una base zero per l'asse perché la codifica non è data dalla distanza ma bensì è data dalla posizione rispetto all'asse. Quindi volendo andare a rappresentare i dati di prima, ecco gli stessi dati rappresentati con un diagramma a punti. Ora qui sono molto compatti per cui è difficile andare a leggere, non sono neanche ordinati, ma sostanzialmente vedete che posso apprezzare benissimo le differenze, quindi vedo che alcuni, ad esempio questi, sono molto in alto, altri sono decisamente in basso. terzo modo per andare a rappresentare un confronto è utilizzando delle aree, delle dimensioni. Ora essendo le dimensioni non molto differenti è difficile andare a notare le differenze, per cui è chiaro che questo 63 e questo 77 messi vicino riusciamo ad apprezzarli, ma ovviamente non abbiamo nessuna capacità di andare a percepire quelli che sono i rapporti effettivi. Un po' perché qui ne abbiamo tanti e quindi sono piccoli, un po' perché è ovvio che qui non posso neanche utilizzare il trucco sbagliato, peraltro, di andare a tagliare le barre perché se vado a modificare le aree altero ancora di più quella che è la percezione. Quindi il confronto tra le aree è molto molto difficile. Altro modo di rappresentare un confronto è quello utilizzando il conteggio, ovvero una tecnica che si chiama isotype, che è una tecnica sostanzialmente sviluppata all'inizio del secolo scorso, in un tentativo di andare a definire quello che è un sistema generale, diciamo tipografico, per andare a rappresentare graficamente delle informazioni per lo scopo dell'educazione. Per cui Maria e Notto Neurath hanno sviluppato questo tipo di rappresentazione, che adesso è ovviamente molto diffusa, in cui vado a rappresentare i valori utilizzando un certo numero di figure, icone, lettere o qualunque altra cosa. Quindi il numero di ripetizioni di ogni figura rappresenta un certo numero di unità della mia misura originale. Vedete che ovviamente, se voglio essere abbastanza preciso, ho la necessità di andare a tagliare a metà o tagliare ancora di più alcune figure. Vedete che qui la scelta in particolare è stata di al massimo andare a rappresentare le metà, anche perché altrimenti sarebbero difficilmente leggibili. Questo vuol dire che la precisione è molto approssimativa, ma comunque abbiamo una buona idea e di nuovo la lunghezza della fila può rappresentare il valore e possiamo andare a contare il numero di unità, quindi quante volte viene ripetuta la stessa figura per capire i valori. Una evoluzione, una variante del confronto pure semplice è quello che invece si basa sul confronto ma con un ordine, quindi sulla base di una classifica. Anche qui di nuovo abbiamo sostanzialmente i meccanismi che abbiamo anche per il confronto nominale. L'unica accortezza è che normalmente i dati vengono ordinati. Normalmente, visto che noi inizialmente pensiamo a una cultura di tipo occidentale, gli elementi che stanno in alto oppure a sinistra sono quelli più importanti, quindi sono quelli che stanno in cima alla classifica. Quelli che stanno a destra o in fondo è ovvio che sono gli ultimi della classifica. Quindi normalmente io posso fare un ordinamento crescente o decrescente a seconda di dove voglio mettere l'attenzione e poi andare a rappresentare i miei dati. Per cui per lo stesso insieme di dati che abbiamo visto prima, ad esempio qui siamo andati a ordinare le diverse categorie, ovvero le regioni, in base alla misura, ovvero l'affluenza elettorale. Di nuovo qui abbiamo il problema che le barre devono essere con base zero e quindi non permettono di apprezzare molto le differenze. È ovvio che essendo vicini anche i valori ordinati, qui i valori simili per forza sono uno vicino all'altro e quindi qui entra in gioco quello che è la distanza minima percepibile che spesso sulle barre di queste dimensioni è superiore a quella che effettivamente c'è tra le due barre. Per cui è decisamente preferibile andare a utilizzare un dot plot. Vedete che in questo caso rispetto al diagramma di prima in cui i valori non erano ordinati è tutto decisamente più facile da leggere e quindi possiamo anche andare a identificare diversi gruppi, quindi alcuni che sono molto bassi e altri che sono tendenzialmente alti. Una variante del dot plot è quello che si chiama il lollipop dove sostanzialmente aggiungo una barra piuttosto spessa che connette il punto con la categoria. A questo punto ho una doppia codifica, ho la codifica del punto rispetto all'asse ma ho anche la codifica che è la lunghezza di questo segmento. Per cui tendenzialmente qui abbiamo un po' ridotto perché abbiamo una doppia codifica lo stesso problema che avevamo con le barre tagliate. Per cui in generale quando vogliamo utilizzare un diagramma di tipo lollipop è preferibile utilizzare una base 0. Ulteriore variante rispetto a questo tipo di rappresentazione in cui ho la classifica c'è quello in cui io voglio andare a rappresentare una variazione rispetto a un qualche valore di riferimento. e qui di nuovo posso utilizzare i punti come al solito ma posso utilizzare anche altre tecniche. Ad esempio, questo è una tipica rappresentazione stile contachilometri dove ho questo indicatore che varia lungo un angolo quindi sostanzialmente la mia codifica è fatta tramite l'angolo che questo segmento forma con l'orizzontale. In realtà l'angolo è quello che sta qui a sinistra quindi non è quello sotto. Ovviamente l'angolo da solo, ne abbiamo parlato quando abbiamo affrontato il tema della percezione, è difficile da valutare e quindi molto spesso viene associato anche a una posizione rispetto a un asse. L'asse in questo caso non è lineare come siamo abituati in molti casi ma è quello che segue questo semicerchio, quindi la posizione rispetto a un asse. Quello che viene fatto molto spesso, quando abbiamo parlato di misura abbiamo detto che è importante dare un riferimento, è lungo questo asse andare a rappresentare i valori che sono quelli di riferimento, per cui qui la deviazione rispetto a quello che potrebbe essere la sufficienza, quindi il 50% viene indicata da queste differenze di colori e poi posso andare a identificare un'altra area, ad esempio dal 66 fino al 100% in cui invece ho un valore positivo, quindi ho la deviazione del mio indicatore rispetto a queste due soglie. Quindi il fatto che il mio indicatore stia in un'area di un certo colore rappresenta che sono in certe condizioni, quindi ho la deviazione rispetto ai valori di riferimento e ho un rating del valore. Questo tipo di rappresentazione, sebbene molto diffusa, ha dei grossi problemi, sostanzialmente richiede molto spazio. È difficile comprimerla, per cui ho un arco, sebbene spesso sia intuitivo, non è immediato andarlo a leggere, quindi richiede abbastanza tempo. Qui posso avere ovviamente delle tacche che mi permettono di leggere, ma la lettura precisa della posizione del mio indice è abbastanza complicata. Una variante che invece di utilizzare un asse sostanzialmente che segue un semicerchio usa un asse lineare è questo che viene di solito chiamato un bullet graph. Il bullet graph sostanzialmente va a codificare un valore come una barra. Molto semplice, molto intuitivo, abbiamo visto che la lunghezza è facile da comprendere anche a livello immediato. Qui, di nuovo, invece di andare a lasciare la barra da sola, andiamo a utilizzare uno sfondo, in maniera del tutto analoga a quanto abbiamo visto prima con il tachimetro, dove abbiamo i valori di riferimento, o meglio delle aree in cui i valori hanno un certo tipo di interpretazione. Quindi qui abbiamo sostanzialmente quello che abbiamo chiamato il rating di un indicatore, ovvero siamo in grado di capire che se siamo in questa area più scura il valore va bene. Se siamo in quest'area più chiara, quindi la lunghezza della barra più bassa, il valore non è corretto. Questo tipo di rappresentazione mi permette anche di andare ad aggiungere un valore di riferimento, che può essere l'obiettivo, il valore dell'anno precedente o la media. In generale è facile andare ad aggiungere questa tacca, che è nettamente distinta dal valore primario e quindi mi permette di andare a fare un ulteriore confronto, quindi non semplicemente un rating basato sull'area, ma bensì un confronto tra il valore attuale e l'obiettivo, oppure quello precedente. Attenzione, questo in linea di principio è possibile anche con l'indicatore a tachimetro, il problema è che mi ritrovo con due lancette. Ben sapete, la presenza di due lancette, io posso usarne una di dimensioni e di lunghezze diverse, ma non sono immediate da distinguere. Mentre su un orologio per noi è chiaro sapere che la lancetta corta sono le ore e quella lunga sono i minuti, qui qual è che si riferisce al valore attuale e quale si riferisce all'obiettivo, mentre invece qui è chiaro che il valore primario è questa barra e questa etichetta, questa barra verde, in questo caso o di qualunque altro colore, è semplicemente un riferimento aggiuntivo. Il vantaggio di questo tipo di rappresentazione è che sostanzialmente è molto compatta, per cui io posso andare a compattare diversi indicatori all'interno di un'unica pagina di quello che potrebbe essere un cruscotto informativo. Io qui vennerò presentati soltanto alcuni, vi ho rappresentato sostanzialmente sei dei dati dell'affluenza delle elezioni del 2018 nelle diverse regioni, ma vedete che li posso compattare, li leggo tranquillamente, è chiaro il valore, qui abbiamo ad esempio come riferimento l'affluenza nelle elezioni precedenti e quindi siamo in grado di vedere dove l'affluenza è circa analoga a quella precedente, dove è inferiore, come qui, o dove è stata superiore a quello precedente. Inoltre, in base allo sfondo, siamo in grado di capire dove è andata bene, qui abbiamo messo un livello al 75%, e dove invece è andata meno bene. Quando parliamo di variazione, spesso una cosa che vogliamo fare è quella di andare a visualizzare quella che è una variazione pre-post, o con e senza, quindi voglio andare a confrontare la stessa misura presa in due condizioni diverse, quindi in due tempi diversi oppure con due trattamenti diversi. Anche qui posso utilizzare diverse tecniche, quindi posso utilizzare ovviamente i punti, ma ad esempio posso utilizzare una tecnica che si chiama slope chart, quindi in questo tipo di diagramma la variazione sostanzialmente è codificata principalmente dalla pendenza di un segmento che congiunge i due punti su due assi paralleli e identici che rappresentano le misure nelle due condizioni, quindi ad esempio qui mi trovo l'affluenza nel 2018 su quest'asse di destra, l'affluenza nel 2013 su quest'asse di sinistra e la pendenza di questo segmento che congiunge le due misure per la stessa regione mi dice e mi dà un'immediata percezione del fatto che ci sia stata una variazione più o meno marcata e soprattutto in che direzione è stata la variazione. Quindi qui vediamo che la variazione è stata per tutti sostanzialmente negativa perché abbiamo una pendenza negativa, mentre invece nel caso qui della Basilicata abbiamo una pendenza che è positiva e quindi ci dice che c'è stata una variazione positiva. Ovviamente l'entità della variazione non è immediata perché devo andare a sostanzialmente leggere i valori sui due assi, ma la direzione è sostanzialmente una impressione di quanto è grande, soprattutto rispetto agli altri, è decisamente immediata. Un'alternativa che posso utilizzare quando ho questi confronti pre-post è ad esempio quello che si chiama un dumbbell plot, dove abbiamo in posizione orizzontale solitamente, perché le etichette sono lunghe, possono utilizzare anche in verticale ma di solito non è utilizzato molto in questo modo, quindi sull'asse verticale ho le mie categorie, in questo caso le regioni, e sull'asse orizzontale ho le affluenze, pre-2013 in questo caso e post-2018, con un segmento che congiunge questi due elementi. Quindi sostanzialmente andiamo a vedere questa coppia di punti collegati tra di loro e questo ci dà sostanzialmente la variazione. Quindi se siamo interessati alla variazione, più è lungo il segmento, più abbiamo una variazione. Un altro aspetto che possiamo facilmente osservare è se il punto post è a sinistra o a destra, quindi in questo caso vediamo che nella maggioranza dei casi il punto arancione che è il post sta a sinistra di quello verde e quindi abbiamo tutte variazioni in negativo. In alcuni casi, ad esempio qui, oppure qui e qui, abbiamo delle variazioni in positivo perché il nostro punto post è a destra. Quindi di nuovo è facilmente leggibile, vedo immediatamente e riesco a confrontare la quantità, quindi riesco a fare un confronto in termini di variazioni. Ho un asse lineare immediato, quindi con una griglia, quindi sostanzialmente è abbastanza facile da leggere i singoli valori e quindi oltre alla dimensione vedo anche facilmente la direzione. Ovviamente qui tutti gli elementi non sono ordinati, per cui faccio fatica a vederli. Quindi ho una facilità nell'andare a identificare la regione perché sono in ordine alfabetico, ma non sono ordinati, quindi riesco con più difficoltà a fare un confronto in termini di quelli che erano i valori. Ovviamente io li posso ordinare in base a tanti criteri, li posso ordinare in base all'affluenza post, li posso ordinare in base all'affluenza pre, oppure li posso ordinare in base alla dimensione della variazione, all'entità della variazione. Ad esempio, se ordino in base alla prima ipotesi che vi ho fatto, quindi in base all'affluenza post, quello che ottengo è un diagramma di questo tipo. Quindi di nuovo abbiamo le coppie di punti legate da questo segmento, quindi la lunghezza del segmento mi dà l'entità della variazione e ho un ordinamento che mi dà sostanzialmente quello che è il post. In questo caso ho utilizzato, invece del caso precedente, un direct labelling, quindi sono andato a riportare il nome delle categorie, le regioni in questo caso, immediatamente vicino alla coppia di punti. Questo per andare ad agevolare la lettura, che altrimenti è più complicata se ritrovo il nome, come in questo caso, abbastanza lontano. Quindi vedete di nuovo che i vari principi di gesta, in questo caso la prossimità, possono essere utilizzati per andare ad agevolare quella che è una percezione migliorata e un'identificazione degli elementi più semplice e immediata. Quando ho una variazione posso utilizzare, volendo, anche delle barre accopiate. Per cui, ad esempio, per ogni regione ho la coppia di barre pre e post. Ora, se confrontiamo questa variazione, che è quella che viene utilizzata molto spesso quando dobbiamo visualizzare una variazione, perché probabilmente è la prima scelta che viene fatta quando uno utilizza Excel, la facilità di lettura di questa rappresentazione rispetto a quelle che abbiamo visto prima un dumb and plot ordinato o anche non ordinato o uno slope chart sono decisamente diverse. Quindi, in generale, quando devo andare a concentrarmi su quella che è una variazione pre e post, l'uso di un diagramma barre, a meno che ci siano veramente pochissime categorie, è decisamente non raccomandato. Tanto per darvi un'idea, vi faccio vedere anche uno slope chart che rappresenta non soltanto un sotto insieme, ma tutte le regioni. Ecco, in questo caso è evidente dove ho crescite e decrescite, chi sta in alto, chi sta in basso. Quindi, anche con un diagramma che non è l'ideale, quando ho tante categorie come lo slope chart, ho sicuramente raggiunto una capacità di rappresentare in maniera efficace il dato molto superiore rispetto a un diagramma barre. A questo punto ci fermiamo un attimo, abbiamo visto i primi tipi, che sostanzialmente sono quelli più semplici, di relazioni che vogliamo andare a rappresentare, un semplice confronto dei valori di diverse categorie, diversi elementi all'interno di una stessa categoria, il ranking, in cui ho un ordinamento, e la variazione rispetto a un valore, e in particolare, in quest'ultimo caso, la variazione pre e post, che può essere rappresentata in maniera meno oppure più efficace in termini di immediatezza e di capacità di andare a leggere quelli che sono i valori.